Il centro Abruzzo respira ma solo grazie alla tregua del lunedì. Dopo i 31 contagi inseriti nei registri della ASLE nella sola giornata di ieri, oggi è stato messo a referto solo un nuovo caso di covid-19. Si tratta di una donna di 75 anni residente a Pesco Costanzo. Una calma solo apparente legata, si sa, all'esiguo numero di tamponi che si svolgono la domenica su tutto il territorio regionale. I numeri della pandemia potrebbero rialzarsi già nelle prossime ore, poiché in giornata sono stati svolti circa 300 tamponi nel drive-in del Palasport, dopo il record dei 1.200 della scorsa settimana, che ha portato in alcuni casi anche a ripetere qualche test con ovvi disagi per gli utenti. Complessivamente sono 389 le attuali positivi sull'intero comprensorio Peligno Sangrino, di cui 214 residenti a Sulmona. I sorvegliati sul territorio sono 665, un dato che è in corso di aggiornamento, mentre sono 12 le attuali dei genti. All'elenco va aggiunta una 70enne non vaccinata, che sarà tenuta in osservazione nell'area grigia del locale Nosocomio. All'esilo della diagnosi, dopo aver accertato una polmonite, i sanitari hanno disposto il trasferimento presso le malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila. Per contenere il contagio si svolgerà nel fine settimana in città un nuovo screening di massa, che ha l'obiettivo di stabilizzare il quadro epidemiologico. Nell'ultima settimana sono stati 110 casi messi a referto, molti dei quali inseriti nel perimetro del tracciamento ASL. Intanto si sta spingendo su fronte dei vaccini. Oggi sono state inocurate 197 terze dosi, solo nel lab di Sulmona, su 210 vaccini totali, come pure dalle 10 risulta attiva la piattaforma per gli over 40. Un'ulteriore seduta vaccinale straordinaria a Pratola, in collaborazione con l'esercito italiano, è stata programmata per il prossimo 29 novembre. Tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, potranno prenotare la prima, la seconda o la terza inoculazione. L'accelerata serve per mantenere contenuta la pressione ospedaliera per un Natale senza alcuna restrizione.